C'è un corista bravissimo, Francesca. Ma sul serio? Lei era mamma? Lei era figlia. Mamma e figlia sul bico, linee parallele, due linee parallele, una faceva la tossica, l'altra l'opria a cona. Ce ne abbiamo fatto? C'è anche un corista, Francesca. Lei era perpendicolare. Allora, vieni qua. Ciao. Sparo? Ok, approcciati con lei e siamo a posto. Eh vabbè, ci conosciamo. Nico, cosa facciamo? Facciamo questa. Facciamo questa. Facciamo questa, eh. Cosa? Questa. Facciamo questa. Facciamo questa. Consemmeno, oggi. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti